Ben a tutti ragazzi e ragazze, qui è Frank Rockstorm Oggi siamo tornati su FIFA 18 Perché sono usciti i tozzi della Serie A e della Liga AAN I tozzi della Serie A sono devastanti Ora ora ho trovato però della Liga AAN Negli obiettivi settimanali Proprio in quel pacchetto di merda Di fare 30 gold nelle squad battles Che è un pacchetto di giocatori euro prime piccolo Rami Tots E' un 90 ma va bene Ora per fare la sfida della Serie A Ho deciso di fare prima questa Non utilizzo Rami Ma siccome mi sono ricordato che aveva Kimfewa Tots Quello proprio 64 di merda Ho deciso di utilizzare questo La squadra è questa Andiamo a confermare E adesso andiamo ad aprirci Il pacchetto di giocatori Tots della Serie A O meglio, Calcio A Più merdoso proprio non lo potevano mettere Ma siccome non c'è diritti Siamo pronti Mamma mia Che ansia Ma Argentino non me lo puoi dare Un Argentino No, Ilicic, cazzo Buono, buono 91 Va bene Dai Poteva andare anche meglio Però mi accontento Buono Lo metto tre manchinari Per forza Così mi aumenta La valutazione Che già è 90 Ma va bene Va bene Per questo video è tutto Noi ci vediamo Alla prossima